Mamma mia Cioè mi devo ancora riprendere dalla partita di prima perché mamma mia Che bella partita, andatevela a guardare ragazzi Mamma mia la partita quella precedente, mamma mia Meno male basta cambiare alcune cose Perché anche lui ha cambiato perché lui aveva messo Poppy davanti Perché così Draven focussava Poppy Invece io ho cambiato la posizione di Draven Gli altri sono andati contro quello lì E basta Eh sì bisognava far così Mamma mia Quindi io direi l'item più forte in questo gioco Cioè diciamo nel meta di adesso è l'archivugio Perché l'archivugio è fortissimo Cioè poi raddoppia la cosa O lo nerferanno vorranno mettere degli altri item più forti Perché ci sono altri item forti Tipo Redbuff, Moreno, Monicon sono belli forti anche loro Poi anche quegli altri item Allora soprattutto su quei campioni che hanno velocità d'attacco Come Varus, come Ash, come Vayne Come gli altri commenti che hanno velocità d'attacco Quello lì che ha la possibilità di silenziare E aumenta quello lì che ti tira giù di un livello Le unità anche quelli lì sono forti Però io non li ho mai usati perché diciamo che non sono proprio utili Però vedremo un po' Adesso vedremo adesso Se carica Ah vabbè intanto che stiamo qua Hanno deciso di fare Di mettere anche le ranked su questo gioco Ma secondo me non penso che sia una buona idea farlo Cioè va bene Ok Però Secondo me È un gioco basato un po' troppo sulla fortuna Perché non è tipo come su LOL Cioè secondo me L'ho su LOL Le ranked Su League of Legends L'unica fortuna che hai è di trovare Dei player nel tuo team che sono bravi Basta Cioè vabbè ok Sì Devi sapere usare il campione Però quello non è sfortuna Cioè Saper usare un campione Tu hai un campione E tu devi cercare di capire Come combattere Perché Come funziona È sempre così no Devi solo sapere usare il tuo campione Usare pochi campioni E cercare di usarli bene Basta Dammi Grazie Che poi Pyke Pyke secondo me è uno dei campioni Nel genere Assassin Più forti Perché lui può Vai in giro per tutta la mappa Te li stunna È proprio bello bello forte Speriamo che aggiungano anche altri campioni Speriamo che li aggiungano Vai Mamma mia Questo non è che mi piace tanto come item Ho visto che alcuni dicono che è forte Però non mi piace tanto Non mi piace Ma Perché selvaggio Non mi piace Non lo voglio Che poi è una cosa che non capisco Come mai certi campioni Partono già col mana Già tipo a metà Invece altri no Non lo so Non mi ha dato l'arco Dov'è? Allora Quanti vogliono fare i nobili Io non ci casco Perché Adesso ho ragione in questa maniera Cioè secondo voi Volete fare Un buff Di tre campioni Dove uno Vabbè Cioè cento amato E cose eccetera O volete fare Un buff Completo Dove Tu Ignori O gli attacchi base Ignorano Il 50% Di armatura Cioè secondo me Questo è un ragionamento mio Poi vabbè Ok Forse il buff dei nobili È più forte del buff Del void Però Almeno tu c'hai già Un buff completo Però Oh Eccolo Bene Guarda quanti item Cioè abbiamo già L'archibugio E la brama sangue Ok Va bene Non lo so Chissà Chissà Cosa Troveremo adesso Ah Ai 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 Anche lui c'ha Gli item Che non gli ha messi Neanche Ancora Ok Vai Parti Bravissimo Guardalo Bravissimo No scusami Ho visto qualcosa di strano Non ho capito Bravissimo Bravo 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 Ce ne ha 5 lui Ok Ma io direi No Cioè non mi serve Non ci sono quelli che mi servono Mi mette due glaciali Se guarda Se fosse stato un bel rexai Magari Se metto rexai Lascio anche pike Ho fatto anche la rima Ho fatto anche la rima Ok Vediamo un po' Chi becchiamo Adesso Ai 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 Questo sarà un po' difficile Ma forse Non lo so Vai Bravissimo Eh No 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 E' forte anche l'abilità di Tristana C'è che dire Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene All'inizio va bene Così prendiamo già subito Un item Sai cosa potrei fare anche Potrei fare la doppia spalla La doppia spalla dovrebbe dare L'infinity age No giusto Bellissimo Chi metto Abbiamo fatto il buff Ah Potevo metterne un altro Ah Non l'ho E si Questo qua Ci avete tutto pieno Vabbè Ciao rexai Ciao No scusa Ah no perché Va bene Va bene Chi se ne frega Importante Vediamo se riusciamo a essere Tra gli ultimi Sì Allora O prendiamo Un bastone Allora Il bastone Per forza Dopo capirete perché Ok Sì Che cosa stiamo aspettando Che uno Finisca Ed è andato in bagno Che è successo Ok Bastone 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 Guarda ce ne sono due Uno per me E uno per te Ah non sono l'ultimo No Allora sono a rischio No 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 È mio È mio È mio È mio È mio È mio Mamma mia Che fortuna Che ci sono riuscito A prenderlo Mamma mia Adesso mi servirebbe Un bel campione Che Tristana potrebbe essere Un bel campione Da Cioè Adesso c'è da quel che mi serve Adesso è bello forte Eccoci qua Allora Lo stavo per vendere Kha'X Dopo meno male che ho visto Uno No no Voglio far così Voglio fare così Adesso il problema Ma che No scusate Ok Allora Tristana Ha focussato Proprio Quello che non doveva Essere focussato Vabbè però almeno Fa il colpo Dovrebbe fare Il colpo critico Cioè ragazzi Se questo qua Non è fortuna Cioè Ha focussato Proprio quello Che ci aveva Il buffo E dai nobili Vabbè 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 Ok vediamo Ok vediamo Ma io li lascerei lì Così almeno Vanno su di loro Sì Mi sape di fare un po' Ah qua ce n'è un altro Che vuol fare la cosa Ecco Quello che vi ho parlato Nello scorso video Questo qua vuole fare Ancora Il corso video Della morgana Vai Non doveva andare così No Tristana Tristana Eh vabbè Aiuto qua Ai 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 Eh mi serve un campione Bello forte O trovo due Tristana Però Non me lo farò mai Ma non me lo farà mai Proprio Ok Ok Mettiamo un po' lì Guardi che si lancia Cioè c'è solo il buff del vuoto Diciamo che la mia teoria Non è che sta funzionando molto bene Però mi mette tre selvaggi Ok Oh Adesso Tristana Fai un pochino Ma poco Diciamo che non era l'item Che volevo Però vabbè Quale bisogna Tipo Decidere Lucian Per Darius Non lo so Ragazzi Ah è Vilkido E ricordo che mi volevi Far fregare la spada Ah mo Ma Tristana Mamma mia Sempre su quello sbagliato Eh almeno c'era di Cassadena Risolto lui la situazione I tuoi danni Mamma mia No Kazix Ah Mamma Grazie a tutti 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 Ci sono dei bellissimi Ah è bravo Guarda Bravissimo 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 Vedi Vedi Ci sono tanti Bellissimi Item Qua in giro Per la mappina Ci sono altri Molto più forti Della mia spada Mi darà più 20 Di attacco fisico Mi darà la brava sangue Però è bellissima No Dai Lascialo lì Lascialo lì Tranquillo Ok Benissimo Light Abbiamo fatto la build Più forte Ok Ok E' perché non c'ho niente Mettiamo lui Vediamo se funzionano Due assassini Su Tristana Subito Bravi Vabbè Uno ci ha azzeccato Bene Guardalo Quel Lucian Lì Bravissimo Beh Ci abbiamo lì Dai Se lo prendiamo Che vuoi fammi fare Assassini C'è c'ero lì Pyke Ma lo vuoi proprio Dare così Qua è interessante La situazione Adesso Se riesco a trovare Chogat Lo metto al posto Di Rek'Sai Che poi Cioè poverino Rek'Sai Cioè Rek'Sai Viene buttato Viene eliminato Giù subito Cioè vabbè Forse posso mettere Al posto di Kassadin Però Kassadin Mi aiuta tantissimo Perché toglie il mana Chogat Si fa E' molto forte Chogat Però Adesso vediamo Un po' Vediamo Vai Scappa Bravissimo Guarda quel Kassadin Mamma mia Kassadin Fortissimo E Pyke Scusate Mi confondo Sempre Bella Ok Vega Boy Scout Attimo Cos'è stato Veigar Anche Tristana Minchia Quanti ne ha Ne ha potenziati Mi servirebbe Un assassino Uno 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 Mi servirebbe Un assassino Una Shashima Qua Bisogna stare un po' Attenti Adesso Potrei dare la Spear of Shogin C'è la goccia Lo potrei dare a Pyke Visto che su Pyke E' forte La Spear of Shogin C'è un imperiale No Nel senso C'è Kata C'è Kata Potrei prenderla Come assassino Non so ragazzi Cosa ho fatto Ero lì che tanto Stavo pensando A Kata E Bravo 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 A casa E' morto solo lui Guarda Proprio gli item Che volevo Proprio Ma che Eh no Scusa No 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 Stavolta Full build Draven Pronto all'azione Mettiamolo al posto Di lui Che abbiamo fatto Buona Fine Oh Vedremo un po' De Oh mamma C'è Dario Eh si è Ma è volato Ha fatto il suo dovere Però vai Ok bravo Non ho capito però Chi ha dato il bar No C'è Lucian E' scappato Sì Scappa vai No 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 Bravo Vai Draven 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 Resisti Draven Draven Mamma mia E vai E Darius Potenziato al 2 Quello che proprio Ci serviva Va bene Va bene Devo pensare un attimino Cosa fare Ok Mettiamo lui No Voglio mettere Tristana Così ho il buff Del pistolero Sul nostro caro amico Lo sia No No C'ho Yeah È volato No no Blitzkrat No Blitzkrat Cattivo No Blitzkrat No No Mio Draven No Ma dai Ma il mio Draven Dai Ma chi è che gioca a Blitzkrat Blitzkrat Che non lo si vedeva dal 42 Ma dai Ma stai scherzando Che poi c'è anche quello di Nidale Che c'ha Quello che abbassa il livello Dai No Non ci credo E mo cosa faccio qua Eh Devo cambiare la zona Draven Basta Devo far così per forza Devo far così Devo far così E io che Che prendo di C'è qua Non c'è nessuno che mi serve Andiamo Tindra non mi serve Ok Mi ha dato due pie Che cos'è Li vuoi buttare via Cioè proprio Ok Ciò gatto andato Vai Vai Posto Va bene Nessuna pietà Devo prenderlo per forza Perché Se magari trovo Swain Prendo il buff degli Imperiali E basta Fine Stavamo parlando di Swain Allora C'è un bel item Là sulla sinistra Prendilo Bravissimo Vedi che ci siamo capiti Ci siamo capiti al volo Bravo Sei proprio Dei bravi ragazzi O sapeva che io Volevo fare un full Imperiali Oppure l'ha preso solo Per la goccia O perché Costa 5 Grazie Comunque Grazie Ci abbiamo una Sejuani Qui ragazzi Qua Scusatemi Voglio fare sta cosa Perché questo è un bug Che Lolo non ha ancora Trovato il modo di risolvere Cioè se tu hai tutti i campioni Qua sotto Però tu ne prendi uno Nella zona lì in mezzo Dell'isoletta Te lo mette dentro Comunque Quindi c'ho il buff Del combattente Senza che io Non ho mosso un dito Vedi Il mio Draven Si è salvato Bravo Lucia Lucia scappa Eh vabbè Però almeno Lucia Non so dove l'ha fatto Vola Volare E vai Mamma mia Il mio Grandissimo Draven Vai Vedete in Italy Avete visto Che ha abbassato giù il livello E stavolta No Stavolta Il tuo Blitzcrank Non avere fatto Il tuo lavoro Molto bene Eh 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 Sì 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 Adesso qua Voglio spendere dei soldi Per prendere Problema che però Non posso cambiare La mia formazione Allora lui non sta cambiando niente Ma quello che ho più paura È questo Anche quello lì eh Che cosa ha quello Cioè ce ne ha Tre Al tre Amo Intanto mi prende ancora Lucia Ah no però Non ho più Ma Direi che È andato Bene Possiamo dire Sì Ok Oh c'è un Darius Ah perché mi ha messo Perché c'è ciò Mmm Eh Rek'Sai Ciao Rek'Sai Ecco quello che volevo dire Fa la stessa fine Ecco Così è giusto Perché Tristana Se no non ha nessun item Lo metto lì Boh Una fine della storia Mette i Darius Ok abbiamo un cassa di impotenziato Va bene Tjogat però va bene C'è la one E c'è C'è quello lì che dà più vita Uh Draven Draven Bravo Draven Bravo Tjogat Hai resistito proprio Alla fine Bravo Due spatole Ma mi vuoi far contento È il mio compleanno oggi È il mio compleanno No non è il mio compleanno oggi Come mai due spatole Allora quindi Devo dare le spatole A un campione Che io Devo tenerlo dentro Quindi Darius per forza Ok Quindi posso mettere Un altro campione Un altro Kha'Zix No Ho Pyke a 2 Metto Pyke Allora adesso Devo capire bene Cosa fare Eh ma lo Zephyr Uh Ok lo vuoi Lo butti via Andiamo a trovare Un altro Draven Grande Katarina Tjogat Andiamo a fare un po' di spesa Io intanto Non sto vedendo Quello che succede Però Qualcuno si è avvicinato A Draven No eh Bravi Bravi Ok Ho visto adesso Anche lui sta facendo Un Draven Pensavo che era Swain Mamma mia Ho flashato Che era Swain Mamma mia E vai Kha'Zix Al 3 Mamma mia Una bestia Uuuuh Tjogat Ma allora mi volete far contento Dai Un bel Draven Al 4 Al 2 Ma perché Eh no Potevo mettere Due Katarina Però Sì C'è questo qua Guarda Ho visto Che ha sparato La mitragliata Quella lì La Tristana Però è morta Eh Pensavo Avevo visto Che questo qua Aveva dei campioni forti Ma Gli ho gestiti bene Chi mi è morto Mi è morto Darius Eh O gli devo dare qualcosa A Dariusino Dariusino piccolino No Ma intanto Non mi serve Devo trovare Draven Mi interessa Guarda Draven Io che faccio qua Cotta di maglia Allora Li diamo a lui Perché così Se li trovo Sì Perché se trovo La spada Mamma mia Anche a lui L'attacchiamo Sì Va bene Va bene Poi lui C'ha il doppio attacco Sì sì Alla Così di silenziare Mamma mia Va bene Va bene È il 60 Quello lì Tut Du pass Le Vedi che ha silenziato Non lancio abilità Grandi Bravo Ho fatto bene A darglielo a Lucian Perché Lucian Poi col buff Del pistolero Mamma mia Mamma mia Perché c'hai la scivanna Ho visto che c'è la scivanna Con la quiz Ah Bene 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 La spada La spada La spada La spada Per favore Mia 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 Non ti permetter Ah Meno male Un'altra roba È bella Bella la skin Però la sua Sarà uno scioppone Ok La spada La spada La spada La spada La spada Vediamo E lui ha sempre Quella formazione lì Non vuole cambiare niente Grazie Non lo trovo Né un Draven Né uno Swain Non me Non me lo vuol far trovare Non me lo vuol C'è già forte Già così Draven Però Almeno c'è un pochino Più di vita Un po' più d'attacco Oh È ancora lui Ma scusa Ma perché Blitzcrank Ma di solito Blitzcrank Mica è un robot Giusto Quello che Fa partire subito La urti No giusto E perché Non lo fa Mamma mia Ragazzi Grazie Le mie preghiere Sono state Esaudite Potenziare Derval 3 Non mi sembra Tanto utile Quindi io direi Di trovarci Un bel Tanto Mi serve No Non mi serve Mi serve Uno Swain A me Mi serve Uno Swain Così c'ho Il buff Dei imperiali Adesso vediamo Aspettate E ma è sempre lui Ma mi sa che O è un bug Perché Blitzcrank Non fa partire L'abilità Bravo Lucian Lucian Non fa partire L'abilità Bravo Grande Ma non è che Ha lasciato No ma non è Quello il problema Vedi Evil Kid Mi sa che Forte Devo guardare lui Fatto su Nobili No Qua devo cambiare Ma io direi Che il driver Lo possiamo lasciare Lì tranquillo Qua si mettono qua Intanto quello lì Intanto quello balza Questa mettiamo qua Ok Ok Vai su Chogat Vai su Chogat Per favore Grande il buff Proprio il doppio dei danni A Draven Che è quello che mi serve Bravissimo E chi Ma che glielo do il bastone Vedi che è forte E però anche lui ha resistito Ma il vilkido Mi sa che Tu sei bello Forte Devo capire bene Cosa fare O lascio O devo cambiare No direi di Cioè questa formazione A me piace Perché è fatta bene Proprio giusto Preciso Preciso Allora Non ho messo Katarina Perché Perché Katarina Perché se c'ho il buff Dell'imperiale A me serve Che vada su Draven Non su Katarina Neanche su Su Darius Mi sa che il buff È andato su Darius Ok Ah ma anche Anche il vilkido C'ha Draven Aiaiai Mi sa che anche lui Vuole fare la mia stessa Tecnica Uh Draven Vuole fare Cioè dopo Non so quante partite Finalmente Blitz Che ha fatto partire L'abilità Meno male Mamma mia Eh siamo io contro lui No Ma non mi serve Che il Sì Ok Devo togliere qualcuno Devo togliere qualcuno Oh ma tanto Z cosa mi serve Non mi serve a niente Ah io ci ho detto Che li serve Eh questo qua C'ha il buff Full nobili Questo è difficile E più c'ho il buff Su Draven Eh ma io c'ho il buff Su tutti gli imperiali Bravissimo No Mmm Eh Catarina Eh ha fatto quello Che doveva fare Però non c'è riuscito Bravo Sì Come ha fatto Fabio Avevo due item Cioè Quello aveva due item Avevo cinque Vediamo se così va bene Allora tanto Quello la non c'ha Blitzcrank No ma c'è Funnobili Sì c'ha Kei C'ha Leona Sì ce li ha Ce li ha tutti E maestro d'armi C'ha Ah Ecco perché era forte Draven C'ha il buff Del maestro d'armi Grande Chogat Sei morto Per una giusta causa Ma bravissimo Bravissimo Anche Catarina Ha fatto partire l'abilità Bravo Chogat Grande Chogat Grande Bravissimo Mamma mia Mamma mia Signori Oh la seconda La seconda che la vinciamo E la consecutiva Mamma mia Bravo Chogat Il mio grandissimo eroe Mamma mia Draven full build Colpo critico Brava sangue E l'archibugio E poi dopo anche Lucian Bellissimo Mamma mia Grande signori Mamma mia Mamma mia Bello Ciao signore Ci vediamo nel prossimo video Iscrivetevi al canale Dai Come fate noi Iscrivetevi al canale Cioè io non capisco Dai Ciao Salve signore Ciao 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 a tutti Ciao